ah, ah, allerta meteo, scusate, è bentornati qui, bentornati qui, ecco, ecco qua, non è bizzarro, forte, guarda, guarda, ma, non ho provato questo, ops, non ho sbaglio, così, 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 imparo, ottimo punteggio, guardate, fuochi d'artificio, fuochi d'artificio a capodanno, per guardare, sta meteo in Italia, forte, ancora una volta, ancora una volta, house, город, gua, stripto, schem somethin, sono stata un'escrizione, sta ripesando, autore, vuoi, tutto, vuoi,셔서, un'escrizione, 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 ruore e che volo, Va bene. D'accordo. Perfetto. Il via perfetta. Il via perfetta anche per dicembre. E mannaggia. Mannaggia il livello. Cinque. Quattro. Tre. Due. Una. Guardate un po'. Per poco. Rimangono solo 20 bolle da eliminare. Andata prova. Quattro anche voi. Provatelo. Provate anche a due delle feste. E non ho idea. La mia folle. Quattro. 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 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 6 8 10 12 12 13 15 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 che fiii? forte forte no ma triccia questo ma triccia cosinò Grazie a tutti. 5, 4, 3, 9, 1. Vole saurite, se esci perderai il loro, stai facendo questo livello, questo. No, 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 no. 3, 2, 1. Questa musica, com'è? Per poco, domani solo un gruppo da liberare. Questa musica è? Si no. 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 Grazie a tutti.